Ti sei mai chiesto perché sempre più esperti parlano di un'imminente esplosione del mercato delle criptovalute? Oggi analizzeremo i motivi principali dietro questa crescita esponenziale e perché potrebbe essere il momento giusto per entrare in questo spazio in rapida evoluzione. Grandi nomi come BlackRock, Microsoft e altre istituzioni stanno facendo mosse significative nel settore delle criptovalute. Ad esempio, BlackRock sta promuovendo attivamente Bitcoin ed Ethereum tra i suoi clienti. Questo non solo aumenta la legittimità del mercato, ma pone le basi per un futuro in cui questi asset digitali saranno una componente chiave dei portafogli di investimento globali. Ciao a tutti e benvenuti al nostro canale dedicato al mondo delle criptovalute. Qui troverete aggiornamenti di mercato, recensioni di progetti e consigli per aiutarvi a prendere decisioni informate nel mondo delle criptovalute. Vi invito a seguirmi al canale per essere sempre aggiornati. Anche Microsoft sta valutando Bitcoin come asset per il proprio bilancio, con proposte avanzate direttamente ai suoi azionisti. Questo tipo di attenzione istituzionale potrebbe portare a un effetto a catena, spingendo altre aziende a fare lo stesso. Il mondo sta affrontando una crescente instabilità geopolitica e una sfiducia nelle istituzioni tradizionali. Elezioni in paesi chiave come gli Stati Uniti, l'India e l'Unione Europea stanno portando incertezza, mentre i governi faticano a mantenere la stabilità economica e il controllo dell'inflazione. In questo contesto, le criptovalute emergono come un'alternativa globale e decentralizzata, offrendo protezione contro l'inflazione e maggiore libertà finanziaria. È una soluzione sempre più rilevante per un'economia in digitalizzazione. Millennials e Gennaio Z sono la prima generazione cresciuta in un mondo digitale. Hanno una comprensione intrinseca delle tecnologie innovative, come la blockchain, e si sentono a proprio agio con l'idea di asset digitali. Inoltre, i Millennials negli Stati Uniti stanno ereditando trilioni di dollari e stanno entrando nei loro anni di massimo guadagno. Questo trasferimento di ricchezza potrebbe accelerare ulteriormente l'adozione delle criptovalute. Con l'approvazione di ETF legati a Bitcoin e lo sviluppo di strumenti derivati, il mercato delle criptovalute sta diventando sempre più simile a quello tradizionale. Ciò permette agli investitori, sia retail che istituzionali, di sfruttare nuove opportunità per amplificare i loro rendimenti e coprirsi dai rischi. Ad esempio, Nasdaq e NYSE stanno lanciando nuove opzioni legate agli ETF su Bitcoin, offrendo una maggiore liquidità e accesso ai trader. Con l'adozione istituzionale in crescita, i cambiamenti demografici e le opportunità create da un'economia sempre più digitale, ci troviamo di fronte a un momento storico per le criptovalute. Bitcoin ed Ethereum sono solo l'inizio, altcoin come Solana, XRP e Chainlink potrebbero beneficiare ancora di più di questa evoluzione. Detto questo, grazie per aver seguito questo video. Se hai trovato valore, lascia un commento con le tue previsioni sul mercato cripto e non dimenticare di iscriverti al canale per non perderti i prossimi aggiornamenti. A presto! Razzo! Fallzo! Razzo! Vina hindrza! Sayings Vina Vina ZINA Grazie a tutti.